5, 4, 3, 2, 1, vai! 50, molta attenzione, destra 3, apre 3, 50, al cartello, attenzione, piglio destra 2! 50, sinistra 4, in destra 4, subito destra 3, in sinistra 3, 20, sinistra 3, destra 3 chiude, in sinistra 3, array il destra 3, sinistra 3, array il destra 3, in sinistra 4, per sinistra 4, sinistra 4, lunga lunga e al muro chiude 3! Subito, destra 3, per sinistra, destra 3, in sinistra 4, chiude 3 e sconnessa, in destra 4, 20, sinistra 4, ora molta attenzione, stacca per tonanti sinistro! Sinistra 6, in destra 6, 20, stacca per tonanti destro! E' sporca, 50, sinistra 3, in destra 3, subito sinistra 3 chiude, in sinistra 6, 30, al muro sinistra 6, array il sinistra 4, molta attenzione, destra 4, 30, sinistra 4 è alla ringhiera, destra 3, attento, una stringa le case, sinistra, destra 2, non tagliare, destra 2, attenzione, devi staccare per il tonanti sinistro qua, vai! In destra 5, 20, stacca per tonanti destro, sinistra 4, in sinistra 3 lunga, scelta, bravo!